Ok, buonasera, non c'è bisogno amici di presentazione, da Made in Sud la chiave di successo, anche se non solo Made in Sud, qui a stasera, come mai? Ma perché innanzitutto sono stata invitata, mi hanno detto che devo entrare e dire sì a mamma sì, no a mamma no, se no non mi fanno neanche mangiare, quindi devo per forza utilizzare questa chiave di volta, sono contenta di essere qui anche perché quando si festeggia è sempre una buona occasione per stare insieme. Certo, poi Raniere in Piantistica, il dottor Raniere è un uomo che merita la chiave di successo, la interpreta un po' come l'interprete o no, essere presente un po' su tutto, sempre al massimo delle energie, tu stai dando un grande esempio, i tuoi successi sono evidenti a tutti, sei una delle più brave napoletane degli ultimi vent'anni. L'ho pagato, se non si era capito l'ho pagato, dopo di do la Bustarello, ti ringrazio, sei troppo carino anche perché noi ci conosciamo da tempo, quindi sei un po' di parte, ti la vede l'affetto. Io lo posso dire cari amici, era da parecchi anni che non la vedevo, l'ho rivista a Made in Sud piacevolmente, posso dire che è una napoletana doc, ma non lo devo dire questo, lo dicono i napoletani con il tuo successo, che lo meriti per davvero, sei veramente molto brava. Grazie, una grande squadra, quella di Made in Sud, finalmente abbiamo portato la comicità televisiva al Sud, nel senso che la produzione è tutta napoletana, del Sud, lavorano le persone del Sud, nulla contro il Nord, però almeno non prendiamo aeree, treni, scendiamo da casa e arriviamo al lavoro. E siamo vicino a casa, e dopo ci diletterà e ci farà divertire come sempre. Assolutamente sì. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.